Buche in molte strade, ai uole poco curate e persino le bisce che infestano il cimitero. Come potete vedere dalla foto inviataci all'indirizzo email contributiwebchiocciolaliberta.it A Fiorenzuola monta la protesta di un gruppo di cittadini che chiede al comune di intervenire al più presto. La situazione più pericolosa, segnalata da alcune delle persone che frequentano il cimitero quasi tutti i giorni per far visita ai propri cari, sembra quella del Camposanto dove è segnalata un'anomala presenza di bisce avvistate spesso tra i loculi. Il sindaco Giovanni Compiani spiega che dopo le segnalazioni sono stati effettuati dovuti controlli e che la situazione non è allarmante. Non c'è pericolo di infestazione e diciamo che questo è un caso, sono casi abbastanza sporadici. Bisogna tener conto che il cimitero è molto ampio, c'è molto verde e è una zona di campagna che molto spesso è possibile fare anche questi tipi di avvistamenti. Anche il primo cittadino riconosce invece i problemi legati al cattivo stato di molte strade. Via San Martino, via Pasubbio e molte laterali di via San Rocco, giusto per citare le ultime lamentele, sembrano effettivamente dei colabrodo. C'è evidente, non voglio aggiungere altro perché... In bicicletta è un po' uno slalom tra le buche. Sì, è proprio, è vero. È ora che la mettono a posto. Avete già segnalato l'amministrazione? Sì, 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 abbiamo già fatto. Però non si è mosso nulla? No, niente. Come non detto. L'amministrazione ha pronto un elenco di strade su cui intervenire, ma il nodo è sempre quello delle risorse. Spesso i comuni, è il caso anche di Fiorenzuola, avrebbero i soldi in cassa per poter aggiustare le strade malandate dal tempo e anche dal clima. Non possono farlo perché c'è un patto di stabilità che blocca a Fiorenzuola addirittura 5 milioni di euro. Esatto. L'assurdità è proprio questa perché pur avendo delle disponibilità e il comune di Fiorenzuola è un comune sano dal punto di vista finanziario, negli ultimi quattro anni ci hanno fatto avanzare 5 milioni di euro proprio per il patto di stabilità. Oggi tra patto di stabilità, spending review, da un lato non si può programmare niente perché non è possibile avere i finanziamenti, dall'altro per la spending review arrivano sempre finanziamenti anche per l'ordinario. Non mi console il fatto che siamo in buona compagnia, però abbiamo delle strade veramente che hanno bisogno di interventi. Grazie.